buongiorno da cucina bioevolutiva oggi prepareremo il succo dell'armonia per quanto riguarda l'attrezzatura ci occorre un estrattore di succo gli ingredienti per quattro porzioni sono 5 melagrane 5 mele renette una qualità di mele acida quindi rientrante nella categoria della frutta acida al pari della melagrana un connubio perfetto per una buona bevanda igienista iniziamo con la preparazione come vedete abbiamo già sgarranato la melagrana per sgranare la melagrana il metodo è estremamente semplice potete visionare il video che abbiamo postato di recente intitolato come sgranare una melagrana in modo semplice e veloce iniziamo con il centrifugare la melagrana e vai con la mela giriamo per bene il colore come vedete è un rosa molto armonico e siamo pronti per la presentazione il succo dell'armonia è pronto il sapore è molto delicato buona cucina biovolutiva a tutti e alla prossima video ricetta